Ragazzi oggi 2 dicembre 2018 sarà la partita fondamentale fra Bari e Nocerina Sto fuori al nostro stadio e oggi forse ci sarà una coreografia iniziale Ma prima di entrare allo stadio vi invito a lasciare un bel pollice su di iscrivervi al canale Se ancora non l'avete fatto e che dire ci vediamo dentro lo stadio Ragazzi sono presentato allo stadio Ragazzi sono presentato al canale Forza Bari a lei La curva si colora Forza Bari a lei E la curva si colora Bianco rosso Ragazzi è cominciata la partita Bari-Nocerina Bari-Nocerina Floriano 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 Sì, 1-0 Siamo partiti fortissimi dopo un minuto, due minuti Già il gol di Floriano ha detto un bellissimo gol Ma vece ancora graffia E adesso speriamo di continuare a crescere Direzione Simeri, capisce tutto però a caso Borzoni, aprili di prima L'apertura per Floriano, la mette in giro adesso Può puntare verso l'area di rigore Palla dentro, l'inserimento di Piovedello Quasi un copo in colla per il 2-0 2-0 pari, 2-0 pari Piovedello, sì Piovedello 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 Sì, 2-0 al ventesimo Cosata, Napoletano E' chi non salta, Napoletano E' chi non salta, Napoletano E' chi non salta, Napoletano Ci credo C'è un rigore per la nocerina Questa è la mezz'ora di gioco Questo è un rigore per la nocerina Dai, dai, Maffella, dai Sì, Sì, Sì Per cantare l'inno che avevo messo anche nel video precedente Se non l'avete visto, andatelo a vedere Top 5 coli del Bari Rossa E mai nessuno ci fermerà Noi saremo sempre là dove il Bari giocherà Forza Bari vince ancora per l'utra Siamo l'armata bianco-rossa Sì, meno male che hanno sbagliato i rigori, ragazzi Grandissimo è stato Marfella Ha fatto una grandissima parata E stiamo alla mezz'ora del gioco Ma anche pochissimo E stiamo giocando veramente benissimo Valerio Di Cesare, gran giocata Al limite dell'area Palla di ritorno adesso A cercare la corsa di Simeri In posizione regolare Simeri, Simeri in mezzo Per il facilissimo 3 a 0 Firmato da Valerio Di Cesare 3 a 0 3 a 0 al teta cinquecimo Ragazzi, Di Cesare Credo che sia stato Di Cesare 3 a 0 Ragazzi, 3 a 0 Sancorros Granata Bari e Salerno Ragazzi, è finito Il primo tempo abbiamo giocato Benissimo 3 a 0 Un buonissimo risultato Poi la tifoseria Oggi lo stadio per la 3D È veramente pieno Ci sono un sacco di persone Atmosfera È bellissima E speriamo di continuare così E che dire Ci vediamo all'inizio Del secondo tempo Ragazzi, è cominciato Il secondo tempo Fra Bari e Nocerina Ragazzi, è il ventesimo di gioco Del secondo tempo Stiamo giocando bene Stiamo tenendo palla Insomma Stiamo facendo girare la palla Speriamo di continuare così E portarci a cassa A questo buonissimo risultato 4 a 0 Un buon bellissimo Da fuoriare Un tiro a poro 4 a 0 ragazzi E fra il poker Bollino Bollino Sì, Bollino fa 4 a 0 E falla il poker Bari e Nocerina È del 6 Qua sul trentesimo Sono stati segnalati 3 minuti di recupero E fra 3 minuti quindi finirà la partita Molto probabilmente finirà con il risultato di 4 a 0 Ragazzi è terminata la partita Fra Bari e Nocerina Terminato con il risultato di 4 a 0 Ragazzi se questo video vi è piaciuto Mi raccomando vi invito a mettere un bel polso in su E iscrivetevi al canale E ci vediamo dall'amico della Bari Ciao Grazie Grazie